Ma come ho ripetuto anche prima, ripetiamo sempre queste partite e cerchiamo di fare queste partite per avere tanti punti. Non pensiamo al secondo, terzo posto, primo posto, pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di portare a casa vittorie. È stata una vittoria importante, avete sofferto a inizio secondo tempo, però poi tutto si è messo per il verso giusto. Sì, abbiamo sofferto forse troppo per quelle che sono le nostre qualità, possiamo soffrire anche di meno, però alla fine secondo me è una vittoria più che meritata. Adesso Napoli e Fiorentina, la Fiorentina si allontana e Napoli stasera gioca a Palermo, come la vedi questa lotta, questo inseguimento al secondo posto? Siamo risposto poco tempo fa, pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di fare il nostro.